Dario, ho trovato un vino per te. Perché? Perché per te che sei amante della parte minerale, questo è un vino che con la mineralità, o meglio con le miniere, ha un nesso. Beh allora ha un nesso intanto perché si chiama miniere e soprattutto perché sorge sulle miniere vismesse ormai di zolfo nella zona di Tufo, siamo proprio nella città di Tufo. Stiamo parlando di Cantina dell'Angelo, lui si chiama Angelo Muto ed è una cantina che ha deciso di far vedere effettivamente quanto vale il territorio, il terroir. Esatto, infatti la domanda che volevo farti è questo, secondo te quanto un territorio, quanto un terreno può sentirsi nel calice? In questo caso si sente e tra poco spiegheremo il perché, però sì il territorio incide moltissimo ovviamente non solo per il terreno in sé, ma anche per il microclima, ma questa è una cantina che ha piantato le proprie vigne sopra una miniera. Eh sì, una miniera di zolfo, è la cosa pazzesca che ci raccontavano che se voi andate su queste vigne qui venite fuori che sapete di zolfo, cioè possiamo come rappresentarlo che sia il respiro della montagna, il respiro del terreno, perché se voi mettete il naso su questo calice, cioè lo zolfo si sente e quindi la mineralità diciamo, ma si sente in maniera pazzesca. Sì, si sente molto, però attenzione non è una cosa sgradevole. No, no, no. Comunque sono riusciti a tirare fuori dei sentori molto eleganti, molto delicati, non c'è solo zolfo, c'è anche della frutta. Melone direi. Esatto, melone, pesca. Prosciutto, prosciutto e melone. E l'abbinamento. E l'abbinamento, no, no, non c'è ovviamente, si scherza. Io ci sento una nota anche un po' da pasticceria, una nota di burro. Ma quando dici pasticceria cosa devo sentire esattamente? La pasticceria ricorda appunto l'odore del burro, la pasta frolla, tutti i profumi un po' delicati che senti quando entri in un laboratorio soprattutto di pasticceria. Ma torniamo al vino. La cosa veramente che mi colpisce è l'estrema mineralità che mi porta a pensare subito al pesce fresco. Ma certo, gli abbinamenti sono i classici di un vino con una mineralità e una sapidità in bocca spiccata e quindi con il pesce fresco, crostacei. Pensa che loro mi hanno consigliato lo spezzatino di agnello. Beh, oddio, allora questo è un greco di tuffo da 12 gradi e mezzo, è una riserva anche se la riserva la fa in acciaio. Non ho mai provato ad abbinare un vino così con una carne. Chiediamo anche ai nostri follower se hanno fatto questi test. In linea teorica potrebbe tenere quindi invito voi che ci seguite a dirci se avete mai assaggiato il greco di tuffo con lo spezzatino di agnello, se è un abbinamento corretto. Io ringrazio Angelo Muto per averci mandato questa cosa e devo dire che sarei un po' curioso di assaggiare le altre loro etichette. Eh sì, anche gli altri vini per risentire se hanno questa caratteristica effettivamente del territorio.